Salve a tutti maledetti, in questi giorni è uscita una piccola polemica nell'ambiente del cinema qui sul tubo, culminata ieri con una live di Deli e questo ragazzo, pur Yorick. Premetto, tenterò di darvi il mio punto di vista, prescindendo dal modo con cui sono state dette certe cose, basandomi solamente sul cosa, che voi sapete essere per me la parte più importante del discorso. La base da cui si è partiti è il cinema contemplativo. Cos'è il cinema contemplativo? Bella domanda. Definirlo a parole come ogni arte equivale a denaturarlo, quindi tenterò di esprimere dei concetti che potreste accomunare a questo tipo di cinema. Appurato che non è un genere, è un modo, possiamo dire che il cinema contemplativo è un cinema che non ha bisogno di null'altro che dell'immagine stessa e questa definizione rende definitiva l'estetica, non ha bisogno di dialoghi, di musica, di suono, di qualsiasi cosa che non sia immagine, ma ovviamente, fortunatamente, non intacca la poetica di ogni autore contemplativo, volente o nolente, intendiamoci. Da ciò che ho appena detto, chi di voi mi conosce da parecchio saprà che io, da buon ammiratore concettuale di Einstein, non potrei non essere più d'accordo con questa affermazione. Più di una volta ho parlato del cinema opinando che la sua estetica sia definibile in immagine montata, punto. Ed allora perché sono qui a parlare? E di cosa? Vi farò un paragone riguardo un'altra forma artistica, a me più consonante, la musica. Sapete tutti che il linguaggio estetico della musica è il suono e basta. Il suono deve essere fine a se stesso, deve poter bastare a descriverti uno stato d'animo, un'emotività, un qualsiasi forma di vibratilità, senza bisognarsi del, per fare un esempio, il testo. Ma la divisione qui si è fatta molto, molto tempo fa, ed è quella tra musica assoluta e musica applicata. La musica applicata è applicata all'immagine ed è qualsiasi tipo di musica che non sia sinfonica. Quest'ultima è l'unico esempio di musica assoluta, cioè una musica a cui non serve o non dovrebbe servire altro. Qual è il problema? Assolutamente nessuno, se non una estremizzazione del pensiero riguardo l'estetica artistica. Lo dico cacio e pepe, se ti infogni solamente con la musica assoluta, come con il cinema contemplativo, ti rischi di tendere a non considerare le influenze artistiche possibili e probabili schifando tutto ciò che, a tuo parere, contamina quell'arte. Quindi ovviamente te ne freghi delle sceneggiature e dei dialoghi di Allen, così come te ne freghi dei testi dei Tull. E sono d'accordo con voi che chi è bravo a scrivere dovrebbe fare lo scrittore o il poeta, non il regista o il musicista. Ma questo pensiero non è da tagliare con l'accetta, a mio parere, anche perché alla fine si tende ad estremizzare così tanto l'estetica che, nel caso per fare un esempio dell'elettronica, si arriva a Ryojikeda, dove un cultore può di certo apprezzare, e di sicuro chiunque parli di musica deve conoscerlo. Ma personalmente su molte composizioni sembra un puro esercizio stilistico. Serve davvero quindi snobbare il resto della musica elettronica? Come serve davvero snobbare la musica applicata? Come serve davvero snobbare quel tipo di cinema? E badate, non sto dicendo che nessuno l'ho fatto, è solamente una domanda. Poi parliamo, ne? Sono d'accordo che un critico che sia su YouTube o su di un blog deve, e ripeto, deve conoscere l'estetica dell'arte di cui parla, altrimenti assistiamo, quanto è vero, ad una serie di opinioni, di gusti ed altro, dettati dalla propria morale e sensibilità. Ma non mi stai dando nulla, nessuno strumento a me che ascolto, diventando spesso uno sproloquio egotistico, basato appunto su opinioni. E lo dico a voi tutti, non si è intelligenti perché si ha un'opinione, eh? Tutti hanno un'opinione su tutto. Guardate Montesi, anche lui ha delle opinioni, no? Dicevo, un critico deve scindere opinioni da analisi, e su questo, da queste parti, si sfonda una porta aperta. Ovviamente ho parlato solamente di un paio di aspetti in riferimento a tutta la polemica e a ciò che si sono detti Delli e Yorick, ma erano quelli di cui mi premeva maggiormente dire il mio punto di vista. Anche perché una cosa è la cultura, un'altra cosa è l'intelligenza, ed un'altra cosa ancora è la percezione artistica, ragazzi. Per farla breve, una volta finita la giusta pippa sul come, da amante dell'arte, non frega un cazzo dell'autore, A me interessa, appunto, dell'arte. P.S. Ragazzo, una postilla per te. Ho letto alcuni commenti sotto i tuoi video e le tue risposte a quei commenti. Quando qualcuno ti espone una critica, tenta di evitare di insultare. L'insulto su di una critica non è una risposta alla stessa, ma un atto di debolezza. Se la trovi di oda a non rispondere, lo trovo un atto più grazioso. Ehi, parere mio, eh? Poi fa un po' come cazzo ti pare. Bella a tutti, statemi discretamente bene. Il vostro, di Gleib. Il vostro, di Gleib.